sulla campania va espandendosi sia pur temporaneamente un campo di alta pressione che garantirà almeno fino alla prima parte della giornata di domenica tempo discreto con rari passaggi nuvolosi alta pressione che tra sabato e domenica sposterà però la sua roccaforte sull'oceano atlantico con successiva espansione verso l'islanda questa manovra favorirà l'affondo verso il mediterraneo di una depressione di origine artica che determinerà un vistoso peggioramento il quale sulla nostra regione si manifesterà tra il pomeriggio sera di domenica ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana sabato 10 ottobre cielo generalmente poco nuvoloso ovunque con temperature massime in lieve aumento e comprese tra i 21 23 gradi centigradi venti deboli da ovest nord ovest e mare poco mosso domenica 11 ottobre sul settore centro meridionale della regione cielo in prevalenza poco nuvoloso con qualche addensamento tra l'alto cilento e i picentini nelle aree più settentrionali invece il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità con associate precipitazioni che nel corso della giornata tenderanno ad intensificarsi i fenomeni nel corso del pomeriggio sera si estenderanno alle rimanenti aree della regione temperature in calo nei valori massimi in lieve temporaneo aumento le minime della notte venti da deboli a moderati da sud ovest e mare mosso con moto ondoso in progressivo aumento lunedì il mediterraneo sarà interessato da una circolazione depressionaria alimentata da aria relativamente fredda di recente origine artica le condizioni metrologiche tenteranno a peggiorare sensibilmente su buona parte della nostra regione specie sui settori più meridionali si aprirà così una fase di tempo prettamente autunnale la quale potrebbe proseguire per quasi l'intera prossima settimana ci sarà occasione per frequenti precipitazioni le quali localmente potrebbero assumere carattere di forte intensità caleranno anche le temperature con valori che si porteranno di qualche grado al di sotto della media del periodo grazie a tutti Grazie.